Buongiorno a tutti, anche quest'anno Volvo Trucks parteciperà a Ecomondo insieme a Volvo Construction Equipment, Volvo Penta e Volvo Financial Services dove continueremo il nostro viaggio verso le missioni zero presentando diverse soluzioni sostenibili Iniziamo con il nostro nuovo Volvo FM ingresso ribassato esclusivamente elettrico e particolarmente adatto per la distribuzione cittadina che sarà alimentato da una colonnina Plenitude da 300 kilowatt e da un mitabess di Volvo Penta Presenteremo inoltre il nuovo Volvo FH16 Aero da 780 cavalli il più potente della categoria che sarà invece alimentato dal biocarburante H-Volution di Enilive Infine porteremo un progetto concreto di economia circolare in partnership con Energia Pura marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico per lo sci alpino realizzato riciclando bottigliette di plastica PET questo abbigliamento lo indosseremo proprio a Ecomondo le bottigliette di plastica verranno poi trasportate dal nostro Volvo FH Aeroelettrica presso i centri di trasformazione ci sarà anche un ecocompattatore dove il pubblico potrà riciclare le proprie bottigliette di plastica PET e a sorte ritirare un gadget tutti insieme verso lo zero vi espottiamo a Ecomondo dal 5 all'8 novembre Padiglione A5C5 a presto